In virtù degli ultimi accadimenti politici dove il gruppo Impegno Comune ha chiesto al sindaco Adamo Coppola la rappresentanza in giunta e quindi chiedeva la possibilità di entrare con un assessore, il Partito Democratico di Agropoli traccia il percorso per il prossimo futuro. Nella nota stampa si legge in merito alle iniziative che hanno caratterizzato la politica locale negli ultimi giorni appare necessario evidenziare e chiarire la posizione del nostro partito. Il Partito Democratico rivendica con orgoglio il ruolo determinante e decisivo nella vita gestionale e politica della comunità agropolese avendo assicurato stabilità e concretezza amministrativa sin dal 2007. A poco più di un anno dalle prossime consultazioni amministrative rilancia l'azione di governo locale con una forte proposta che veda negli obiettivi e nelle nuove esigenze legate alla fragilità socio-economica dettata dalla pandemia ogni sforzo utile per superare questo drammatico momento storico e nel contempo adottare strategie politiche di sviluppo, tese a cogliere le nuove opportunità legate al recovery fund. In tale ottica si dovrà lavorare nel segno di una forte coesione dell'attuale maggioranza ed in prospettiva anche di una futura ampia coalizione di centro-sinistra nel rispetto del quadro politico regionale e nazionale con la guida del sindaco Adamo Coppola. A tal fine, proprio su una piattaforma programmatica, in questo scorcio di consigliatura, può trovarsi la precondizione di una futura alleanza per le prossime elezioni del 2022. Il Partito Democratico respinge ogni logica ormai superata e dannosa di rivendicazioni, tese all'occupazione di potere, fine a se stesso, vuoto, sterile e senza alcuna proposta, vecchie logiche ormai obsolete, specchio di quella politica inconcludente e personalistica archiviata nel 2007. La politica è soluzione dei problemi, non trama e congiura, la politica è lealtà e non imboscata, la politica è chiarezza e non intrigo, la politica è speranza per il futuro e non qualche manuale ormai impolverato che qualcuno vuole riportare alla luce. Il Partito Democratico, conclude la nota, facendo anche autocritica e pronto a ripartire e a immaginare in un contesto di politica territoriale un futuro fatto di sviluppo e prosperità per la nostra comunità.